Buongiorno belli, ieri sono andata a Globo per vedere le varie offerte che ci sono, sto cercando degli strivaletti e quindi sono passata, ho visto delle cose davvero molto interessanti, ho deciso di farvi il video avrei voluto fare un video più lungo però sicuramente questa settimana tornerò perché voglio farvi vedere degli articoli che davvero davvero molto interessanti e focalizzo di più i prezzi e provo delle scarpe per voi comunque questo video è solamente dell'idea delle cose che ci sono con dei prezzi veramente veramente molto interessanti perché ci sono i saldi tra il 30 e il 40 e il 50% e alcuni articoli non tanti, soprattutto i sandali estivi avevano addirittura i saldi fino al 70, sono veramente molto 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 carini spero che vi piaccia il video, se vi piace lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella perché vi arriva tutta una novità e se avete voglia di qualche video particolare fatelo sapere grazie a tutti 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 grazie a tutti